Allora, fammi capire un po', tu tecnicamente sei già passato a Sanremo o domani dovrebbe essere... No, domani è il momento clou, è la finale, siamo in dieci finalisti e sei di noi saranno scelti per andare sul palco dell'Ariston al festival di Sanremo. Allora, quindi faccio già da adesso il primo annuncio, cosa che già facciamo da diversi giorni, anzi settimane, per sostenerti. Quindi domani sera, dal programma Ama Sanremo con Amadeus insieme agli altri ragazzi... Che non è neanche Ama Sanremo adesso, è proprio Sanremo Giovani. Ah, perché è la finalissima. Ama Sanremo era la preselezione di questa finale, che è la finale di Sanremo Giovani. E quindi, comunque domani sera, a che ora è? Dalle 21.30 su Rai 1? Dalle 21.25 su Rai 1 e Radio 2. Anche su Radio 2, fantastico. Ovviamente voi ascoltate Radio Time, ma guardate Rai 1 in TV. La radio, devo ascoltare la notte, se non abbiamo fatto niente. È giusto. Dovete sostenere, si fa col televoto massimo 5 voti a persona, mi pare che si possono fare, per numero di tanti. Esattamente, però si potrebbe votare sia dal telefono fisso che dal telefono cellulare. Quindi se avete anche il telefono fisso, 5 telefoni al telefono fisso e 5 telefoni al telefono cellulare. Se poi in casa avete 5 telefoni cellulari e un telefono fisso, avete 30 voti da potere mandare. Quindi più ce n'è, meglio è. Perché queste sono quelle occasioni in cui, visto che poi ci allargiamo sempre noi al Parlamento, no, perché chi è amico mio? Perché poi quando diventano brevi e famosi, siete tutti brevi a dire, no, i gasciorti lo conosco, da quando erano, quando erano ragazzini. È vero o no? No, ti risulta? Funziona così. A me risulta. Ecco, ecco. Mentre io posso dire di averti visto Crescere. Io ho stati vicini amici che non sapevo di avere. Hai visto? Mentre io posso dire di averti visto Crescere, di averti battezzato nel primo contesto, io lo posso dire sempre questo qua. Questo è vero. Ecco, tanto ben capito. Assolutamente vero. Senti, ma invece voglio dirti un'altra cosa. La canzone che presenti è Regina, ma poi sul palco a Sanremo avrai un'altra canzone o ti esibirai con Regina? No, sempre con Regina. Ah, ecco, funziona. La canzone sarà sempre la stessa. Ho capito, ho capito. Mi pare che allora sia tutto pronto. Quindi sei bello carico di nuove esibizioni dal vivo. L'ultima cosa che volevo chiederti e poi ti lascio perché so che sei veramente impegnato. L'altra volta io ho sentito le elucubrazioni di Morgan che non ho ben capito legate alla storia della Fusion. Lui ha tentato di ripigliare... Tu hai capito? Perché tu tra l'altro sei stato grandissimo, sei stato veramente bravo, bravo che hai buttato lì così. Hai detto, beh, io sono un tutt'uno, quindi sono una fusione. Ma, sinceramente, tanto resta solamente qui tra noi. Guarda, io penso che ognuno abbia libertà di opinione, libertà di parola. Come io sono libero di diffondere i generi che amo, lui è libero di non apprezzarli. Se quella cosa la percepisce come una cosa vecchia non è un limite mio ma un limite suo. No, che tra l'altro... Quindi mi sento dire semplicemente questo. Credo che la musica sia... Ecco, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. È vero. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ovviamente mi spiace se non dovesse piacere, però... Beh, tu fai tu. In quello che faccio, faccio il mio, lo faccio al 100%. Che è fondamentale. No, tra l'altro lui era un po' fissato sul fatto del genere. Lui ha deciso che tu facessi fusion, in realtà... Il tuo è proprio soul puro, quindi... Sì, soul, funk, hip-hop, chiamarlo fusion, letteralmente, definendola come una fusione di generi, ci potrebbe anche stare. Però la fusion sappiamo benissimo che... Sappiamo benissimo che è tutta altra musica. Weather Report, un sebbe, altra storia. Yellow Jackets... Esatto, esatto. Lui lui ha citato Miles Davis come uno dei pionieri della fusion, quando Miles Davis in realtà ne ha fatti soltanto due album fusion. Sì, però ha creato il genere, perché lui ha preso l'afrobeat, l'ha messo indietro con l'elettronica, e quindi voleva fare capire che era preparato sulla fusion, solo che non ha accannato e che tu non fai fusion. Ma questa è una questione mia personale. Vabbè, niente ci fa, l'importante è che... Ma è... sono punti di vista, non è stato... Ma infatti, l'importante è che la musica sia bella e che piaccia, naturalmente. Tu fai questo, se uno non ha fatto, non me fai bella musica e piace. Tantissimi ascoltatori stanno dicendo Regina de Best, lo sosterremo, si fusiva un cervello, l'altro lo dice, ovviamente. Senti, io non so se tu hai sentito quello che sta succedendo, perché pare che anche a Sanremo si parli di mescalito. Tu hai avuto notizie di questo? Grande, il nuovo super singolo, assolutamente sì. Il rumor si è... Si è espanso, si è espanso. Quindi non si parli di... Si è espanso il marchiatolio. Ecco, mescalito anche... Io me ne vado, io me ne vado. Davide, ti mando un abbraccio grande e fortissimo. Domani sera saremo tutti con te a sostenerti, naturalmente, e continueremo a farlo anche ascoltando la tua canzone. Ti auguro il meglio, un bacio grande. Ciao Davide, un abbraccio grosso a tutti gli ascoltatori di Radio Time. Ciao, ciao Davide, ciao. Ciao, ciao.